Enrico Papi è principalmente noto per il suo lato professionale, quello solare e allegro, che ha conquistato il cuore degli italiani attraverso vari programmi televisivi. La sua vita privata, d'altra parte, è sempre stata meno visibile al pubblico. Tuttavia, recentemente, in un'intervista, Enrico Papi ha aperto il suo cuore e ha parlato del suo rapporto con sua moglie, Raffaella Schifino, madre dei loro figli, Rebecca e Jacopo. Abbiamo affrontato momenti difficili più volte, ha sottolineato Enrico Papi. Quando le cose non vanno nella giusta direzione, ci sono due possibilità. O si cerca di risolvere ciò che può essere risolto, oppure bisogna capire come porre fine alla situazione, senza ferire nessuno. Sono convinto che sia molto meglio una separazione serena che un matrimonio infelice. Enrico Papi ha elogiato sua moglie durante l'intervista, descrivendola come paziente e comprensiva. Quando sento alcune coppie che dicono di conservare la stessa passione dei primi tempi, penso che siano da ricovero immediato. Dopo un po' di tempo, nei matrimoni, ci si trasforma quasi in parenti. L'incesto è fuori discussione. Grazie. Nelle dinamiche di una coppia possono accadere molte cose, ma è importante che il rispetto non venga mai meno. Secondo Enrico Papi, la fedeltà, come la intendiamo tradizionalmente, non esiste. Chi sostiene il contrario sta mentendo consapevolmente. Il tradimento viene sopravvalutato, anche se tutto dipende dalla gravità del tradimento stesso. Raffaella sa perfettamente che sono attratto dalla bellezza e che sono curioso per natura. Tuttavia, questo non significa che siamo una coppia libertina. Nel nostro rapporto non c'è ipocrisia, nessuno possiede l'altro. Quando vedo i profili di coppia su Instagram o su WhatsApp, provo un brivido. Enrico Papi si definisce schietto e senza filtri, definendosi fluido, anche se non crede nelle etichette. Sono un esteta, vado oltre, ha concluso. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, perché è importante per noi. Resta sempre aggiornato. Grazie per la visione.